Ciao a tutti, come state? Spero bene. Allora, io sono quasi in partenza, sabato partirò per due settimane di ferie, sarò assente dal canale e ci saranno delle modifiche. Con questo video volevo darvi qualche novità, ho fatto anche un elenco per non dimenticarmi niente. Se mi vedete un po' arancione è perché la mia fedele amica, la lampada, ha deciso di lasciarmi. Probabilmente con tutti questi temporali avrà preso qualche corto e non va più, quindi dovrò andare a cercarmi un'altra. Comunque, allora cominciamo subito. Non so se avete visto, sono arrivata al centesimo video, questo è il centonesimo. Volevo ringraziarvi perché è grazie a voi che mi date sempre lo slancio per delle nuove idee, i vostri commenti mi fanno piacere e quindi mi stimolate a fare ogni giorno, diciamo, un video. Poi, da oggi in poi ci sarà l'approvazione per tutto sul mio canale. Questo perché? Perché appunto dovrò assentarmi e quindi voglio evitare ogni abuso possibile che ci possa essere in merito ai commenti oppure ho visto che ci sono delle ragazze che approfittano del fatto che la persona che ha il canale è assente, quindi scrivono dei messaggi poco gradevoli. Se avete qualcosa da dirmi, potete farlo sicuramente quando io ci sono. Quindi, da oggi in poi, approvazione per tutto, anche per il video del entry per il mio concorso aperto fino al 6 di settembre. Quindi, al mio rientro, approverò tutto quello che c'è da approvare. Se mi mandate un entry per il concorso, ricordatevi, per favore, mandatemi anche un messaggio privato dove mi dite Stefania, guarda che ho fatto un entry, ho pubblicato adesso il video per il tuo concorso, di modo che io possa controllare che effettivamente ci sia come video risposta e che l'abbia anche come video da approvare. Poi, se avete delle richieste per prolungare la scadenza del mio concorso, mandatemele comunque. Al mio ritorno valuterò e deciderò se fare qualche giorno di prolungamento per la scadenza. Poi, nuovissima novità, proprio nuova, nuova, nuova. Vi devo annunciare, l'altro ieri ho avuto un'idea per il prossimo concorso, che probabilmente sarà ad ottobre, immagino. Spero per festeggiare i miei 1500 iscritti. E sarà un concorso festival di colori, quindi cosa vorrà dire? Cominciamo subito anche dai premi, che saranno tutti coloratissimi. Sarà aperto a tutti, quindi chi fa video make up, chi fa video di nail, chi fa video comici, chi fa video per leggere dei libri, chi fa qualsiasi cosa, potete scrivere, potete scrivere un racconto, fare una vignetta, qualunque cosa. Ci sarà una vincitrice, vi faccio già vedere i premi, e se ci saranno almeno tre concorrenti uomini, ci sarà anche un premio da uomo. Invece, se non ci saranno almeno tre concorrenti uomini, ma ce ne sarà magari uno che vorrà partecipare, e riceverà questi premi, che sono comunque dedicate a una donna, e diciamo che potrà fare un bellissimo regalo gradito sicuramente a una donna che ama. Poi, niente, è tutto quanto, vi ho letto tutto quello che dovevo leggere, vi faccio vedere i premi per il prossimo concorso. Però voi non aspettate, partecipate in tante a questo, e voglio farvelo vedere perché non riesco più, non sto più nella pelle. Allora, il titolo per il concorso prossimo, che aprirò diciamo ottobre, come linea di massima, sarà I colori della mia vita. Potete fare di tutto e di più. Come premio avrete questa, ma non questa, perché questa è mia, comunque una palette 88 colori. Quindi, eccola qua, questa è la mia, l'altra l'ho già ricevuta, tutta intetta, tutta bella, in ordine, a posto. Più, vi faccio vedere, mi alzo, una collana come questa che indosso io ora, è una mia nuovissima creazione, l'ho fatta proprio l'altro ieri. E anche un festival di colori, vedete, e sarà una cosa simile, diciamo. Le perline probabilmente saranno le stesse, ma non queste grandi, avranno una variazione di colore. Comunque, questi saranno i premi per il mio prossimo concorso. Vi ringrazio a tutti, se non dovreste più vedermi in video, magari non faccio tempo a fare altre cose, e vi saluto, vi mando un grande abbraccio, abbraccio, scusate, un grande abbraccio e vi ringrazio tutte. Ciao, a presto!